Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. C'è un enigma enorme che probabilmente sconvolgerà tanti di voi. Ovvero, alla Juve qual è il centrocampista che serve? Ne serve uno recupera palloni da mettere davanti alla difesa o serve quello di Fioretto che invece crea gioco, consolida il possesso, diventa pericoloso in fase offensiva? Perché ci sono tante teorie, parliamone, facciamo anche i nomi oggi, faremo un confronto con i numeri per capire esattamente cosa serve alla Juventus. Io vi dirò la mia opinione, che non vuole essere una verità assoluta e aspetto le vostre però sotto nei commenti perché il bello dello scambio è proprio questo. Ovviamente ragazzi prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, cliccare sulla campanella così vi arriva la notifica ogni qual volta posto un video e scaricate la PuanFootball. Trovate il link in descrizione, la migliore app per rimanere aggiornati sul calcio. Quando arriva una notizia che devo commentare per me è sempre una risorsa importante ma lo sarà anche per voi quando siete in giro, quando siete a lavoro, tac, la notifica, vedete un po' che cosa è successo. Molto molto puntuale. Faccio una breve introduzione che non riguarda il mercato ovvero complimenti ieri alle Juventus Women che in casa hanno pareggiato col Wolfsburg che è una squadra molto più con un'esperienza, un bagaglio di esperienze importante in Europa. Beh loro hanno fatto un'ottima gara a doppietta di Cristiana Girelli e quindi complimenti alle Women. Grande grande risultato, una prima Champions direi abbastanza positiva al di là del fatto che ci si qualifichi o meno, però insomma contro il Chelsea non hanno sfigurato col Wolfsburg, insomma se la sono lottata alla morte hanno ottenuto questo pareggio. Quindi ragazze complimenti a voi. Ora parliamo del centrocampo. Innanzitutto bisogna fare un ragionamento. Sappiate che la Juventus difficilmente acquisterà dei centrocampisti salvo cessioni. Per quello anche quando io ho fatto il video di Ramsey io auspico una sua cessione, una recissione, qualsiasi roba basta che ce lo leviamo dalle scatole. Ma non perché lui il vero problema della Juve. Il problema è che occupa uno slot. Lui sta sempre fuori, mai in forma. Viene utilizzato poco perché sicuramente rispetto ai suoi compagni non è al top della condizione. Ci si aspettava molto di più. Ha reso molto meno rispetto alle aspettative che noi tutti avevamo. È stato un acquisto sbagliato e la colpa è della società, non di Aaron Ramsey che insomma non gli hanno puntato la pistola per firmare il contratto. Lui ha firmato un contratto. Ce la farà la Juventus a liberarsi di lui? Ce lo auguriamo tutti quanti perché ad ora il suo contributo alla causa Juve è pressoché nullo. Al di là del fatto che abbia fatto due, tre, quattro, cinque buone partite su tutte le altre che ha giocato. A volte è stato impalpabile. Lo sappiamo. Quindi liberiamo in quel caso uno slot importante dal punto di vista economico perché percepisce abbastanza tanti soldi. Ripeto sempre colpa della Juve. Si stia liberando però di un giocatore che ha reso sempre al di sotto rispetto alle aspettative. Io mi auguro di non vedere più delle operazioni così scellerate che se si va su un parametro zero ecco si vada coi piedi di piombo perché anche oggi vi parlerò di un parametro zero ma probabilmente funzionale alla causa più di quanto lo sia stato sia Ramsey che Rabiot. Per quanto riguarda Rabiot le altre sirene sono tutte inglesi. A quanto pare un giocatore che piace ad Ancelotti vorrebbe andare in Premier League anche il ragazzo. C'è della serie. Se arriva un'offerta per la Premier la valuta molto volentieri. E la valutiamo anche noi Adrian perché si è una plusvalenza che cammina e ci liberiamo anche qua un ingaggio importante. Una cosa che in Premier riuscirebbero a dargli senza troppi patemi. Questo è. Quindi prima di fare qualsiasi acquisto la Juventus dovrà inevitabilmente cedere qualcuno. Vi ricordo che l'anno prossimo è molto probabile che Rovella tornerà alla Juve. Quindi bisognerà capire anche lì la gestione di questo ragazzo. Capire la questione di liste che attualmente sono abbastanza incasinate. Piene direi. Quindi esce uno entra l'altro. E' questo il discorso che dovete capire. Ora tornando a noi dobbiamo ragazzi ragionare su quelli che possono essere i potenziali acquisti. Le notizie di oggi anche di mercato si parla di una rete continua di contatti tra la Juventus e Zaccaria. Giocatore centrocampista del Borussia Mönchengladbach. Non lo so neanche dire ogni volta. Non so se lo sto dicendo male. Comunque quel Borussia là. L'altro Borussia come diceva il buon buffon. E vedete bene. Allora questo è un giocatore differente rispetto ai tanti che abbiamo sentito. E' molto più simile a Chouamini. Altro giocatore che garba. Allegri garba la dirigenza. In particolare Cherubini è innamorato di questo ragazzo. E quindi Zaccaria è un'occasione. Perché? Perché l'anno prossimo potrebbe andare via a zero. Su di lui c'è anche la Roma. Quindi Pinto sta lavorando per cercare di strapparlo. Ma la Juve a quanto pare si è inserita abbastanza bene. E c'è questa fitta rete di discorsi. Ma Zaccaria è quello che fa il caso della Juve. Ragazzi è un centrocampista alto di rottura. Di impostazione anche se vogliamo. Minima. Però non è un giocatore. Non ve lo so proprio non è il mediano come lo intendiamo noi alla Pirlo. E' tutt'altro. E' più un Casemiro ecco se vogliamo dal punto di vista dei ruoli. Non della tecnica. Non sto parlando di caratteristiche tecniche. Sto parlando di modo. Del modo che ha di interpretare quel ruolo. E' un giocatore che sa giocare in un centrocampo sia a due che a tre. Quindi questa duttilità secondo me insomma fa strizzare l'occhio un pochettino ad Allegri. perché spesso secondo me la Juventus potrebbe adottare un 4-2-3-1 o un 4-3-3 in base alle partite in base all'avversario che ha lì davanti. Zaccaria può fare il vertice basso e può fare anche il centrocampista a due. Questa sicuramente è una buona notizia per Allegri eventualmente. Ora guardando i numeri e facendo un confronto con anche Chouameni che è un giocatore del Monaco ma a quanto pare le pretese del Monaco sono abbastanza elevate perché si va oltre i 40-50 milioni per il costo del cartellino mentre Zaccaria è a zero. Quale 3-2 migliori? Cioè quale 3-2 è il migliore o quello che andrebbe preso? In realtà Chouameni ha anche qualche anno di meno perché Zaccaria ha 24 anni e Chouameni ne ha 21. Quindi ha tutta una carriera avanti. 3 anni di calcio sono tanti specie se giochi ad alti livelli puoi migliorare tanto. Allora io vi dico già che è più talentuoso sicuramente Chouameni che ha sicuramente molti più margini di crescita ma anche Zaccaria è un giocatore da non buttare al cesso. Tutt'altro perché se parliamo proprio di numeri nel confronto che andremo a vedere dopo beh insomma fa impressione impressione nel senso che ha degli ottimi numeri. Ha degli centrocampista che viene preso in considerazione è Witzel che non lo reputo né carne né pesce né di Fioretto e una sorta di Arthur secondo me Witzel. La verità io per prendere Witzel a zero a 30 anni o magari con un indennizzo del cavolo al Borussia Dortmund francamente non ci sto. La vera domanda che mi sono posta è questa ma la Juve cosa vuole? Un centrocampista ripeto di rottura che è l'enigma iniziale. L'enigma iniziale è centrocampista di rottura o centrocampista di Fioretto, uno che cerca di cucire il gioco, di fare un po' di rifinitura che va alla conclusione spesso eccetera. Questi tre che vi ho menzionato nessuno mi pare che abbia delle caratteristiche idonee per la rifinitura. Ecco anche se ogni tanto Zaccaria o Chouameni trovano la conclusione dalla distanza ecco ma sono sempre più attenti alla fase difensiva che alla fase offensiva. L'idea che mi sono fatto è la seguente. Probabilmente vuole spostare il buono Allegri il carico tecnico con un centrocampista di rottura un pelo più avanti. Quindi Locatelli andrà a occupare delle posizioni di campo e delle porzioni di campo un pelo più avanzate rispetto a quelle che sta facendo ora. E ci sta perché poi anche Locatelli ci ha dimostrato che lì vicino in zona gol sa incidere, sa calciare, sa inserirsi coi tempi giusti. L'abbiamo visto anche il nazionale in occasione della doppietta contro la Svizzera-Austria. Non mi ricordo più ragazzi. A me si dissuano tutte queste cose. Ahimè è la vecchiaia che avanza. Comunque in occasione degli europei quando fece quella doppietta mi pare che era contro la Svizzera proprio. E lui fece quel gol là quindi giocando un pelo più spostato avanti perché c'era Giorginio che occupava una posizione di campo un pelo più arretrata. Quindi vi posso dire che secondo me nell'idea di Allegri ci potrebbe essere anche questa cosa qua. Se poi va a cercare un centrocampista di Fioretto che è bravo nel finalizzare le azioni, nel chiudere a rete eccetera, secondo me Witzel non fa il caso nostro. Mi pare un'altra occasione di mercato. È strappagato già il Borussia. Dovremmo strappagarlo anche noi. Io dico signori no grazie. Preferisco quegli altri due che hanno la possibilità di crescere alla Juve, di dare ulteriore valore perché non hanno 30 anni, sono molto giovani. La Juventus potrebbe ricavare del plus valore facendoli giocare con una certa costanza. Potrebbero diventare delle pedine importanti nella Juve che verrà e quindi io sono tutta la vita per il partito Suomeni barra Zaccaria e non Witzel. Però insomma, visto e considerato che è una voce di mercato che è uscita, andiamo ad analizzare un pochettino i dati. Dati che ho preso da Optapaolo che è abbastanza affidabile. Come potete ben vedere ragazzi ho messo un po' tutto. Gol, assist, non ho messo i tiri perché mi importava poco perché mi concentrerei più sulla questione passaggi che forse è quello che manca. Come potete vedere chi ha più partite in assoluto? Beh sicuramente Suomeni seguito da Witzel e poi infine Zaccaria. Zaccaria 9 partite giocate, Suomeni 12, Witzel invece ne ha giocate ben 11. Minuti giocati siamo più o meno là, addirittura Zaccaria ha giocato più di Witzel nonostante abbia fatto meno partite. Due gol, Zaccaria li ha fatti. Quindi è un conversion rate maggiore a rete, nel senso che in base ai tiri che ha fatto ha segnato un pelo di più. Ha un assist addirittura, gli altri 2-0 a riprova del fatto che Witzel lì davanti mi pare che sia un pelo impalpabile. Accuratezza dei passaggi. Qua Witzel vince su tutti. Beh beh è più tecnico, ve l'ho detto, è un Arthur 2. Anche Arthur la percentuale di passaggi che ha è abbastanza elevata, però devo dire che Zaccaria non si distanzia di tanto e neanche Suomeni in realtà hanno secondo me un'ottima percentuale, 87% Suomeni, invece 90% il buon Zaccaria. Direi che tutto sommato non male, ecco. Per quanto riguarda i passaggi lunghi, beh Witzel è uno che sa verticalizzare, sa cambiare il gioco in maniera importante. Qua Suomeni meno quello che ha il rendimento minore, 61,4% di passaggi lunghi riusciti, mentre il buon Denis Zaccaria 72. Andando invece nella fase difensiva, scivolate qua il dato è clamoroso, 100% Witzel, però bisogna capire anche quanti ne ha fatti, perché ovviamente non è un giocatore che viene sollecitato quanto Suomeni e Zaccaria per le zone di campo che vanno a ricoprire ovviamente. Quindi qua 63,64% il buon Zaccaria che è sul take all così così e invece il buon Suomeni un pelo di più, 72%. Duelli aerei qua mi fa, insomma, spavento sto 57% di Denis Zaccaria che è alto 1,90% e passa. Caro mio, qua devi migliorare tanto, però i due lei lì sono migliorabili. Invece Suomeni molto molto bene, 67,86% e invece Witzel che è alto un metro in citofono, non si sa perché, o li ha ingaggiati con un nano più basso di lui, però insomma ne ha vinti gran parte, con l'85%. Poi, vabbè, duelli uno contro uno, vince Suomeni in questo caso. Cartellini gialli dal punto di vista della condotta, Witzel meglio. Da questi dati sembrerebbe addirittura Witzel molto più difensivo, eccetera. A mio parere Zaccaria è un giocatore migliore rispetto a Witzel, anche sul lungo medio periodo facendo questa valutazione qua e valutando anche i costi benefici, nel senso che è un giocatore che può darti molto più valore che paghi molto meno. Suomeni non se ne parli, però Suomeni ha dei costi importanti. Non so se la Juventus sarà in grado di poter anche prendere magari un numero 9 all'altezza della Juventus. Quindi si parla di Vlaovic. Mi sembra strano vedere Suomeni più Vlaovic è una spesa folle. Però vi dico anche un'altra cosa. Ora, prendendo anche un giocatore simile di rottura, come questo qua, non è che risolviamo tutti i problemi. Perché secondo me qualcosa dal punto di vista offensivo manca comunque. Per cui un centrocampista di Fioreto, un Pogba, immaginatevi un Zaccaria, Locatelli e Pogba, già è un centrocampo degno di essere chiamato centrocampo. Ora vi menziono Pogba perché va via a zero. Milinkovic-Savic, metteteci chi cavolo vi pare, ma qualcuno che abbia un minimo di influenza là davanti. Vedete che le cose cambiano. Perché abbiamo un centrocampo che fa spavento. Ma nel senso brutto del termine. Non nel senso che gli avversari ci temono quando entrano in campo. Per cui Zaccaria, Suomeni, io li prediligo rispetto a Witzel. E va bene spostare anche il talento tecnico un pelo più avanti. Quindi Locatelli barra Arthur o McKennie che sta facendo molto molto bene anche in queste ultime uscite. Però mi concentrerai solamente su questi due. Visti i dati, viste insomma la lunghezza anche di questo video che è straordinaria per il sottoscritto, sono curioso di leggervi. Sono curioso di vedere un po' che cosa ne pensate. Se avete delle domande, le vostre opinioni, nei commenti. mi raccomando, innescate una bella discussione. Vi voglio bene, ciao a tutti e sempre fino alla fine Forza Juve.